Un saluto da Ficcanaso. E' successo che, proprio mentre l'INAIL ha cominciato a pagare il 2016 e il 2017, dopo due anni di mancati pagamenti, sia ai medici di famiglia che a quelli di prodotto soccorso, che a tutti quelli che hanno certificato per gli infortunati senza farsi pagare in libera professione, proprio allora i sindacati sono andati dalla SISAC, hanno firmato la convenzione, prima di Pasqua gli hanno lasciato una sorpresina alla SISAC e alle regioni. Gli hanno chiesto di adoperarsi presso i ministeri competenti perché l'INAIL prende i soldi che oggi dà i medici di famiglia certificato per certificato, faccia tutto un mucchietto di questi soldi e li trasmetta alle regioni che li ripartiranno per il numero dei medici di famiglia e li serviranno in quota capitaria, esattamente come un obolo che premia sia che i certificati li fa, sia che i certificati non li fa. Perché questo socialismo reale? Perché sostanzialmente l'obbligo di certificare c'è per tutti i medici, tutti devono farli, nessuno si deve specializzare a farli e l'altro no. Ma perché i sindacati sono così poco innamorati del pagamento che, ricordiamo, è 27,50 euro dell'INAIL per certificato, più 5 della spedizione elettronica e fa parte di una convenzione del 2007 che è stata disdettata dagli stessi sindacati nel 2009. Semplice perché nel 2009 i sindacati firmatari, non firmò lo SNAMI ma gli altri firmarono, FIMG, SMI in particolare, videro che i loro aderenti ma tutti i medici di famiglia che facevano i certificati con INAIL non ricevevano i pagamenti in modo tempestivo e non li ricevevano tutti. Allora a questo punto dissero no, allora a questo punto si può fare la libera professione. Qualcuno continuò a fare i certificati chiedendo all'INAIL, però nel 2016 avvenne una novità, una legge, la 151, cambiò le carte in tavola e disse che tutti i medici che hanno di fronte un infortunato o una persona a malattia professionale sono tenuti a loggarsi all'INAIL, dargli le credenziali, prendere il certificato, il modulo, scaricarlo, compilarlo, rilasciarlo al paziente ma anche inviarlo all'INAIL e quindi basta. Basta perché? Perché nemmeno i ministeri dipanarono il quesito se i medici dovevano fatto questo sacrificio, pensiamo al mio medico di fiducia e un medico pensionato. e magari io vado da lui e gli dice che è difficile, però non solo il medico di famiglia deve loggarsi, ma qualunque medico deve loggarsi. Non c'è, o io lo disse all'INAIL, guardate che non è una cosa ben fatta. L'INAIL chiese parere ai ministeri e i ministeri dissero è ben fatta perché in 48 ore qualunque medico può, da quando vede il paziente, certificare perché si accredita all'INAIL, è finita l'ASP, gli dice certificato. Benissimo, succede che però i ministeri non rispondono se questo certificato debba essere compensato. Il 22 marzo 2016 l'INAIL interrompe i pagamenti, salvo poi riprenderli dopo un cambio di indirizzo nato con il governo Gentiloni che fa dire ai ministeri di salute e del lavoro in tempi diversi che però un lavoratore che paga il certificato in libera professione al medico è sacrificato perché non riceve il rimborso dall'INAIL rispetto a un lavoratore che non lo paga. Dopodiché quindi succede che i medici, i sindacati medici a partire dall'ospedale, a partire dai medici di pronto soccorso, cominciano a fare battage perché l'INAIL torni a pagare i certificati, cosa che fa e darà infatti i 27,50 Euro più 5 ad ogni certificato a partire da questo mese in tre tranche fino a settembre per quanto riguarda il 2016 e poi con successiva nota vedrà di pagare il 2017, praticamente si torna alla normalità. Però i sindacati medici non cevono sta, perché? Perché preferiscono un meccanismo come la quota capitaria. A me è capitato di sentire alcuni di loro. Tutto sommato c'è una grossa comodità, un unico sostituto di imposta, non è l'INAIL, non ci sono pagamenti tardivi e incompleti, paga la Regione. Dopodiché c'è la questione dell'obbligo che è per tutti e poi c'è un po' di risentimento verso un legislatore che a suo tempo impose i certificati di malattia, nessuno parlò del fatto che potessero essere a pagamento, solo parlarne. No, in realtà i medici in famiglia si prestarono a fare un'opera di pubblico servizio in maniera meravigliosa come tuttora la fanno e la stessa cosa è avvenuta per i certificati di gravidanza per il bonus bebè però, più recenti, con una finanziaria che è imposta di farne anche al medico di famiglia, anche se si tratta di certificare roba ginecologica, quindi va via un po' di tempo e quindi che succede? Succede che si è ingenerata una terza problematica, i medici certificano in libera professione ma utilizzano il modello dell'INAIL, quindi c'è il rischio che se non avvertono l'INAIL vengono pagati sia dal lavoratore sia dall'INAIL e quindi sono situazioni tutte da verificare, molto problematiche, che si sono verificate dal 16 e dal 17, l'INAIL infatti ha detto che i medici hanno qualche problema e mi scrivano. insomma c'è una confusione tale che i medici di famiglia tutti insieme hanno detto no, stavolta mettiamo la fish noi e vediamo che cosa succede. Un saluto da Ficcanaso. iscriviti al canale